Buongiorno, sono Umberto Guidoni, astrofisico e astronauta. Ho volato due volte nello spazio a bordo dello Space Shuttle e sono stato il primo europeo a salire a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Mentre ammiravo il nostro magnifico pianeta azzurro, non ho potuto fare a meno di pensare che stavo vivendo una splendida avventura che sarebbe stata impossibile solo qualche decennio prima. Le scoperte del secolo scorso hanno dato un'accelerazione mai vista alla storia dell'umanità. Grazie al metodo scientifico comprendiamo sempre meglio le leggi della natura e possiamo utilizzarle per sviluppare le tecnologie che servono a migliorare le nostre condizioni di vita. La scienza non è solo progresso tecnologico, è anche il miglior vaccino contro la paura, la superstizione e le fake news. Parlando di vaccini arriviamo alla cronaca di queste settimane. Finalmente abbiamo un'arma davvero efficace per combattere la pandemia che ha stravolto le nostre vite. È un risultato straordinario per la rapidità con cui è stato realizzato e per l'efficacia manifestata durante i test. La scienza ci ha fornito lo strumento per debellare il virus, ma per funzionare il vaccino deve raggiungere gran parte della popolazione. Ciascuno di noi può contribuire, vaccinandosi. Quando arriverà il proprio turno? Io lo farò non solo per evitare di ammalarmi, ma soprattutto per tornare alla vita normale, un risultato possibile solo se ci impegniamo tutti insieme. Sarà proprio la solidarietà umana l'arma più efficace per sconfiggere la pandemia. Arrivederci.